il solito mucchione nell'area di rigore arriva il pallone per De Rossi che stacca la prende lui ma la palla va addirittura in fallo laterale a meno che non la tenga Totti non la tiene perché c'è Gomez che lo salta gli fa il tunnel, riparte, fallo di Totti calcio di punizione per il Catania Paolo Assoli diceva Riccardo che vuole vincere il Catania vuole vincere Montella te lo conferma il fatto che quando c'è un'azione di contropiede secondo l'allenatore del Catania i centrocampi